Ssshh Voglio continuare su questo Voglio continuare su questo però vorrei che voi faceste molta attenzione Quello che sto per fare è una discussione un po' più dettagliata del legame tra questi due modi di esprimere Non ho portato la pallina se no lo lanciavo nel proiettile Deve essere chiaro che quello che sto per dire potrebbe essere riciclato Tutto quello che sto per dire adesso può essere tranquillamente riciclato Perchè la matematica che lega questo modo di esprimere un legame tra una grandezza e un'altra Può essere espressa con il linguaggio degli integrali Ok? Io parlerò in questo contesto perchè sto parlando di forze, di variazione di quantità di moto Cioè l'impulso Però quello che dico può essere riciclato da questo contesto Fatelo voi questo eh Allora facciamo il più prolissamente possibile una situazione di questo tipo E' chiaro che queste sono tre equazioni E' chiaro a tutti? Sono tre equazioni Per la direzione x Per la direzione x Per la direzione y Per la direzione z Deve essere chiaro questo Io tratterò una delle direzioni E farò meno anche di mettere il 13x Quindi sia questa la forza pensata come funzione del tempo Proprio perchè non è assolutamente sicuro che voi avete capito C'è niente di peggio poi di avere persone all'orale Che dicono adesso non ho capito Il peggior momento per dire che non ho capito Quindi questa è una delle componenti x,y,z La f pensata come funzione x E pensate a una funzione Non credo di averlo detto stamattina Ma immaginate che sia la funzione zero Poi c'è un certo valore E poi dopo un intervallo di tempo t Cessa essere zero Cessa la forza di esistere Quindi questa si chiama una forza impulsiva Questo è l'impulso Questa è una forza impulsiva Non c'è Poi c'è Per ogni intervallo di tempo poi non c'è Non è molto realistica per il momento E qua nel grafico sotto Voglio scrivere la quantità di moto Al variare del tempo Allora immaginate che questo sia il vostro istante iniziale Chiamiamolo t zero E voi volete sapere qual è l'istante t zero Qual è la quantità di moto Allora la quantità di moto nell'istante t zero E' uguale a quello che è all'inizio Più l'integrale da t zero A t della funzione f Pensata come funzione del tempo State integrando dunque Che lavoro che sto facendo? La quantità di moto in questo istante qua E' uguale al valore iniziale Più l'area sotto la funzione Dall'istante t zero all'istante t Allora dall'istante t zero all'istante t Allora dall'istante t zero all'istante t Qual è l'area sotto la funzione? Visto che la funzione è zero L'area sotto la funzione è zero Molto semplice fino a ora no? Quindi il valore della quantità di moto in questo istante È proprio uguale al valore iniziale Perché? Perché l'area qua sotto non c'è Non c'è un'area sotto la funzione identicamente nulla Quindi potete immaginare che per tutti gli istanti Al passare del tempo Perché il tempo sta scorrendo In questo istante qua Qual è la quantità di moto in questo punto? In questo istante La quantità di moto in questo istante E' uguale alla quantità di moto dell'istante iniziale Più l'area sotto la funzione Nell'intervallo t zero t Chiaramente nell'intervallo t zero t La funzione è zero Perché la forza comincia qua a t uguale a zero Ma in questo intervallo di tempo la forza è zero Quindi l'incontributo dell'area sotto la funzione rimane zero Quindi potete capire, almeno spero Che la quantità di moto non cambia Fino a quando non comincia ad agire la forza Se io vi chiedo qual è la quantità di moto in questo istante E poi cosa fate? Guardate la formula La quantità di moto in questo istante è il valore iniziale più Avete visto Nemo ieri sera? Ah, è grandioso Dovete guardare un inglese Ah, è strabittoso Ma Nemo per me è uno dei più divertenti che abbiano mai fatto Vi fa morire la razza, no? No, che maestro Vabbè A noi Shhh Eh, memoria breve termine che va a farsi fottere Come si chiamava la pesciolina blu? No No Ok, questa è l'area Shhh La funzione che va dall'istante t0 all'istante t Quindi dovete calcolare l'area sotto questa funzione alla ragione Da t0 all'istante t Chiaramente qua è tutto 0 l'area ma qua no Quindi dovete calcolare l'area sotto la funzione Secondo la funzione è una funzione impulsiva, rettangolare, piatta, semplice E' ovvio che devo calcolare l'area di quel rettangolo Allora, sia, che so, f0 il valore della forza nell'intervallo in cui è diverso da 0 Un certo numero di Newton se siamo nel sistema internazionale E' chiaro che l'area di questo è f0 l'altezza per la base che è questo intervallo di tempo D'accordo? Quindi sarà un valore diverso da 0 In questo caso è un valore positivo perchè la funzione è maggiore di 0 Sapete gli integrali quando la funzione è più spia L'area è positiva quando la funzione è negativa L'area è negativa, sapete queste cose no? Quindi questo è un valore positivo Quindi in cima al valore iniziale devo sommare l'area di questo rettangolo E quindi immaginate che questo sia il valore Cioè questa quota qua che sto evidenziando in giallo, in bianco E' il valore di quell'integrale là, di quell'area là, chiaro? Quanto è il valore di P in un istante che questo intervallo Guardate la mia dita Che questo intervallo di tempo sia uguale a quello Cioè che questo intervallo di tempo sia il doppio di quello Allora voi cosa fate? Andate quassù Individuate il tempo di istante qua E il valore della quantità di volto in questo istante E' uguale al valore iniziale Questo è il valore iniziale Più l'area della funzione Ma in questo istante qua Come vedete l'area sotto la funzione E' il doppio di quello che era prima Perchè? Perchè questo intervallo è uguale a quello La base di questo rettangolo Adesso è il doppio di quello che era prima L'altezza è sempre F0 E quindi l'area che dovete aggiungere a questo valore qua Al valore iniziale E' il doppio di questo Se era così dovete aggiungere il valore doppio Ok? Questo è il valore doppio di quello Perchè è doppio? Perchè la base di questo rettangolo è il doppio di prima Quindi dovreste essere in grado di capire Che al passare del tempo L'area qua fino all'istante T maiuscolo almeno Fino all'istante T maiuscolo L'area cresce linearmente E' chiaro a tutti? C'è qualcuno che non capisce questo? L'area sotto la funzione arancione Cresce linearmente tra l'istante T uguale a 0 e T maiuscolo Perchè? Perchè la funzione è piatta E l'area sotto la funzione è data dalla altezza per la base E la base è proprio il tempo Quindi al passare del tempo la base cresce linearmente col tempo E' il tempo E quindi l'area sta crescendo linearmente col tempo Ok? In questo istante del tempo Qual è il valore della quantità di moto? E' uguale al valore iniziale Più l'area della funzione sotto da T0 a T Questo è l'istante T che vi interessa Allora dovete calcolare l'area sotto questa funzione da qua fino a qua E' evidente che l'area sotto la funzione arancione tra questo istante e questo istante E' data da questo contributore Qua l'area è 0, qua l'area è 0, qua quant'è l'area? E' F0 per T maiuscolo Quindi ormai in questo istante qui il valore è questo qua Non sta cambiando più per istanti maggiori di T maiuscolo L'area sotto la funzione arancione non cambia più Siete tutti d'accordo? La variazione di P nasce nell'intervallo di tempo dove la forza è diversa da 0 E' chiaro a tutti? Vedete come la quantità di moto non cambia, non cambia, non cambia Certo che non cambia, non c'è una forza Se non c'è una forza la particella non cambierà la sua quantità di moto Abbiamo detto che la quantità di moto è la forza, se la forza è 0 la P non cambia Quindi P non cambia, P non cambia, P non cambia, P non cambia Ecco che comincia ad agire la forza La P cambia, come cambia? Con una forza di questo tipo cambia linearmente Cresce, 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 cresce perché la forza continua a agire, continua a agire, continua a agire Quando la forza cessa ad agire la quantità di moto non cambia più Ci siamo? Dovete vederla nella formula Al di là di dir la parola Dovete vederla nella formula La quantità di moto è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione L'area sotto la funzione Una volta che cominciate T0 L'area sotto la funzione dipende da dove mettete l'estremo superiore, no? Il valore negli istanti T è data dall'estremo superiore di questa integrale Quindi al variare del T L'estremo superiore dell'integrale L'area è sempre 0 Fino a quando la forza comincia a cambiare Poi la forza c'è Ma poi la forza sparisce Quindi quando arrivo qua per istanti superiori a T' L'area sotto la funzione L'area sotto la funzione non cambia più E' chiaro a tutti? Cercate di vederlo nella formula Di vederlo formalmente E saperla anche accompagnare con delle parole Finché non agisce la forza La quantità di moto non cambia Perché non c'è una forza Poi cambierà perché c'è una forza Quando la forza cessa di agire La quantità di moto non cambia più Ovviamente dovete Come ho esordito dicendo Dovete pensare a esercizi analoghi In altri contesti Se questo è il grafico della velocità La velocità è 0 E poi la velocità non è 0 E poi è 0 di nuovo Eccomi qua Nell'istante T0 io sono qui Il tempo scorre La velocità è 0 Poi arrivo all'istante T0 La velocità cambia Sto andando a 2 m Al secondo di quella direzione Poi dopo un minuto mi fermo Com'è la mia posizione? Allora la mia posizione Se questo è il tempo e questo è x Avrò un certo valore Che non cambia, non cambia Non mi sto spostando Non c'è velocità La mia posizione non cambia Non cambia la mia posizione Quando la velocità cambia Ecco che la mia posizione Cambia linearmente Se la velocità è fatta così si intende Quando la velocità cessa La mia posizione non cambia più È la stessa matematica Ovviamente questa è la situazione Di questo tipo Facciamo uno un po' più realistico Cosa posso cancellare? Vediamo se questo disegno mi riesce Questo è il grafico del tempo Questo è l'ordinata della forza Stiamo parlando di forze in questo contesto Adesso è chiaro che questi per esempio Sono Newton Questi sono Newton qua Nel sistema internazionale Questi sono Newton E questi sono secondi Nel sistema internazionale Immaginate le forze di questo tipo Che è 0 Poi ha un certo valore Aspetta un attimo Facciamo un po' più alto Ha un certo valore Per un intervallo di tempo Poi per un intervallo di tempo uguale Ha un valore doppio Che è metà di quello che era all'inizio Quindi la forza è così Poi è così E poi per un altro intervallo di tempo uguale A un valore che è metà di quello che era all'inizio Quindi questa è la nostra forza Una situazione del genere Chiamate che so Questo è il valore F0 Questo sarà F0 mezzi E questo qui È F0 quarti Tanto per fissare l'idea È un esercizio che chiamiamo grafico Semi quantitativo Di quello che amo tanto fare agli ornali E disegnare la variazione della quantità di muoto Anzi abbasso un po' Perchè forse Avrò bisogno di un po' di spazio Vediamo che basti Questo è un po' di spazio Questo è un po' di spazio Questo è un po' di spazio Ma userò le parole Tipo in questo istante Non c'è una forza Quindi non c'è motivo che la quantità di muoto Sia cambiata Cioè la quantità di muoto in questo istante qui È uguale al valore iniziale Più l'area sotto la funzione Tra qua e qua La funzione è 0 Non cambia Non cambia Non cambia Non cambia La quantità di muoto non cambia Adesso nell'istante più uguale a 0 Comincia ad agire la forza Allora Tra questo istante Tra D0 E questo primo infermario di tempo La forza è costante Quindi dovete capire Anzi fatemi tirare un po' Queste linee Così corrispondono agli istanti Gli stessi istanti Per un istante di tempo Che è compreso tra Pi uguale a 0 E questo primo intervallo di tempo Quando la forza vale F0 mezzi La forza sta crescendo linearmente Perché cresce linearmente? Perché In quell'intervallo di tempo L'area sotto la funzione Cresce linearmente Perché la funzione è un rettangolo Di altezza F0 mezzi E l'area sta crescendo Con l'aumentare della base Che è il tempo Cresce linearmente Poi quando entro nel secondo Intervallo di tempo La forza adesso è raddoppiata Quindi da questo valore La quantità di moto crescerà Di nuovo linearmente Ma con una pendenza doppia Perché cresce linearmente? Perché all'aumentare del tempo Ovviamente dopo questo istante qua L'area in questo istante qui Dipende dall'altezza e dalla base Quindi al passare del tempo La dimensione della base Cresce linearmente E quindi il contributo d'aria Cresce linearmente A partire da questo valore Cresce linearmente Ma con una pendenza doppia Cosa vuol dire doppia? Allora posso fare una cosa del genere Se in questo intervallo di tempo Nel primo intervallo La forza dava su Di questa quantità qua Per un intervallo di tempo uguale Andrà su il doppio Non andrà qua Scusatemi Non andrà Devo dirlo meglio Questo è il valore In questo istante Quanto è in questo istante? Se avesse la stessa pendenza Questo qui dovrebbe andare fino a qui Siete d'accordo? Sì Cioè lui sale di questo In un uguale intervallo di tempo Ma ha un'altezza doppia Quindi non sale qui Sale a un'altezza doppia Arriva qui Siete d'accordo? Quindi In questo intervallo di tempo qua La forza sta andando su Linearmente sì Ma non ha una pendenza Che è doppia di questo Magari in blu Perché comincia ad esserci tanto Quindi la quantità di moto è così Cresce linearmente Poi cresce di nuovo linearmente Ma con una pendenza doppia di questa Perché è doppia? Perché l'altezza del rettangolo è doppio Chiaro? Adesso entro nel terzo intervallo di tempo Dove l'altezza del rettangolo È metà di questo Se volete è un quarto di quello Allora di nuovo Come posso pensarvi fare? Allora Questo intervallo di tempo Per ipotesi È il mio esercizio grafico È uguale Quindi Con questa pendenza Sarebbe andata su così Però deve salire metà Perché questo è metà Di questo qua Quindi La quantità di moto fa così Lo vedete? C'è qualcuno che non capisce Com'è che si dice nei matrimoni? Se qualcuno non capisce Me lo dica subito Questa ha la pendenza doppia di quella Questa ha la pendenza doppia di quella Cioè questa è quattro volte quello Capite? Guardate i rapporti Poi In questo istante qui Se io vi chiedo Qual è la quantità di moto in questo istante Sarà il valore iniziale Più l'area sotto la La funzione arancione Da quest'istante A quest'istante È evidente Che qua Non cambia più La quantità di moto Siete d'accordo? Perché è cessata la forza C'è qualcuno che non capisce Il mio disegno? No? Nessuno alza la mano Nessuno protesta Quindi State cominciando A imparare qualcosa Questo è il cambiamento Della quantità di moto Dopo che la forza Ha smesso di agire Questa è la quantità di moto Dopo che la forza Ha smesso di agire Durante l'azione della forza Perché è una forza impulsiva Non è una funzione costante È una forza che Non c'è Poi c'è E poi non c'è più La forza impulsiva Durante l'azione della forza La forza cambia La forza in questo caso È costante La quantità di moto Cambia Perché la forza C'è Qua la forza Non è costante Nel tempo Sta cambiando Valore più alto Valore più basso E la forza quindi Sta cambiando Il tempo Durante l'azione della forza La quantità di moto Cambia Qual è il massimo Cambiamento La quantità di moto Beh si avrà Quando la forza Ha cessato di agire Quindi questo è Il valore massimo Della variazione Della quantità di moto Finché la forza agisce La quantità di moto Cambia ancora Quando smette di agire La quantità di moto Non cambia più D'accordo? Allora Questi discorsi Vanno un po' integrati Con un disegno Che non mi ricordo se L'ho fatto stamattina Ma in realtà La forza In funzione del tempo Per le forze Impulsive Raramente sono funzioni Così Quello comincia Già ad essere Un po' più realistico Perché una forza Infulsiva Può avere un andamento Molto complicato Può anche essere Non voglio disegnare Sopra Può anche essere Così Dove Avete una forza Molto complicata Che poi A un certo istante T maiuscolo Cessa di agire Questo è un certo momento Cessa di agire Poi non c'è più Ok? E' chiaro che Questi scenari Uno che è Un po' smooth Smooth in inglese Vuol dire Abbastanza liscio O questo che è pieno Di esperità Questo è smooth Questo non lo è Tutte e due Sono forze impulsive Non ci sono Uno poi smetto di agire Però durante un intervallo Di tempo In cui la forza sta agendo Avete una dipendenza Al tempo Più o meno Complicato Questo è molto semplice E' chiaro che Una situazione così o così Può essere ricondotto Uno così In ultima analisi Uno così Perché voi potete Dividere l'intervallo Di tempo In tanti Intervallini E ognuno di loro Pensare di costruire Delle forze Che sono Come rettangolari Quindi una volta che capite Cosa succede In una situazione Rettangolare Voi potete ricostruire La variazione La quantità di moto Con precisione arbitraria Non è il concetto di integrale No? Con precisione arbitraria Sta a voi Potete sostituire La forza vera Con tanti rettangoli E quindi Potete immaginare Che più rettangoli ci sono Più La quantità di moto Cambierà In una maniera Che dal valore iniziale Al valore finale Quando la forza Scessa resistente Non cambia più Prima La forza era costante Cambierà da questo valore A questo valore In un modo Che avrà una specie Di serpede Si chiama Sigmoide Una curva del genere Ok? Come vedete Vedete che Si è un po' arrotondato Questo inizio E poi si è arrotondato qui Quando era Un rettangolo semplice Era una salita lineare E basta Più ho integrali Di questo tipo Cioè Più ho rettangoli Iniziali e finali Più Più viene arrotondato Scusate un attimo Pronto? Ciao Ascolta Sto facendo lezione Sono impegnato per 3 ore Possiamo sentirsi dopo le 5? Sono questo numero qua Va bene? Scusami Perdonate Ma sono in mezzo alla lezione Ciao Ciao Scusate E' chiaro quello che sto dicendo? C'è qualcuno che non capisce questo? Altro concetto che merita essere detto E' questo C'è un teorema di analisi Che voi conoscete Che si chiama il teorema della media Cosa dice il teorema della media? Nel contesto di matematica Se questa è una funzione E qualcuno vi chiede di dire Qual è l'area sotto la funzione? Il teorema della media dice Qual è l'area sotto la funzione? L'area sotto la funzione è questa roba qua D'accordo Ma il teorema della media dice L'area sotto la funzione può essere uguale All'area di un rettangolo Che abbia base B-A Di opportuna altezza Cioè l'area sotto la funzione La funzione ha questa parte dritta Questa parte dritta Questa parte dritta Questa parte dritta E questa parte curva Il teorema della media dice Che se la funzione continua integrando E bla 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 C'è un opportuno rettangolo Che ha una base B-A E un'opportuna altezza Tale che Se io disegno Se questo qua rappresenta L'area di un rettangolo Di una certa base Di una certa altezza Quindi l'area sotto la funzione Può essere pensata Come l'area di un opportuno rettangolo Di opportuna altezza La base è B-A Ma opportuna altezza Quindi da qualche parte Io riesco a immaginare Di avere un triangolo Per esempio Una cosa del genere Questo non va bene Forse questa è già Più accettabile Dove ho sostituito Dico che l'area sotto Questo rettangolo qua E' uguale all'area bianca E questo valore qui Mi ho appena perso il gesso L'ho sentito cadere Questo valore qui Questo valore opportuno Vediamo un attimo Disegniamolo così Questo valore opportuno Lo ottengo in questo eta Cioè il teorema dice Che esiste tra B e A Un opportuno eta Un valore di x Tale che Se io uso come altezza del rettangolo Il valore della funzione in eta Ho l'area giusta La conoscete il teorema? Qualcuno non lo conosceva? Di solito E non ho mai capito Perchè I matematici Dicono che il teorema La media è questa Certo che è vero questo Ma questo è enunciato Il modo di enunciarlo così Nasconde il senso geometrico Questo è il modo in cui A me piace tanto Enunciarlo Perchè fa capire Che sto dicendo Che c'è un opportuno eta Che mi darà L'altezza di un rettangolo Tale che avrò L'area giusta D'accordo? Io ho cesso di parlare Finchè non sento silenzio Straordinario Che voi non sappiate Benzegliare Io non capisco O siete sordi E quindi non vi rendete conto Che parlate voce alta Oppure Per farvi sentire Dal vostro compagno Dovete alzare la voce Perchè siete sordi? Perchè avete sempre le cuffie Di ascoltare musica E distruggete le cellule Molto preziose Che sono di numero finito Non sono infiniti E non sono neanche Indistruttibili Del vostro orecchio interno Se voi A furia di ascoltare musica A volume alta Distruggete I piccoli peli Che sono quelli Che percepiscono Il moto dei fluidi All'interno dell'orecchio E che sono quelli Che poi Fanno trasmettere Il segnale No? Al cervello A furia di far Distruggete Quei peli Voi diventate sordi Quindi Se ascoltate la musica In maniera intima Cioè con le cuffie Non alzate il volume Perchè diventate sordi Ecco perchè Non sapetevi svegliare Siete sordi E non sto mica scherzando Quanti di voi hanno fatto Un esame dell'udito? Io fino ai 30 anni Non avevo le cuffiette Quelle piccoli Avevo le cuffie E a me piace molto Ascoltare la musica Anch'io E un giorno Per lavoro Ho fatto l'esame dell'udito Uno degli orecchi Ha un danno permanente Ho un intervallo Di frequenza Che non sento più Perchè? Perchè per 10 anni Dai 20 ai 30 Ascoltavo la musica Un metro o quanto Allora, cosa stavo dicendo? Questo è il modo Che a me piace dire L'area Strafizione E' uguale All'area Nel rettangolo E il rettangolo alla base B-A E' un'opportuna altezza Questa opportuna altezza Si chiama La media Ok? Quindi Usiamo questo risultato No? Quindi La variazione di P Che è uguale a Questo benedetto integrale qua Per una forza impulsiva La forza media Io posso scriverla così Come la durata della forza Per la forza media La forza media la scrivo così Ok? Questo è il mio simbolo per la forza media La media temporale Questa è la media La media nel tempo Della forza Ok? Quanto sarà in questo caso qui? Qual'è la media della forza? Questa è banale no? La forza è piatta La media è uguale a se stessa D'accordo? Qua quando sarà la media? Provate a pensarci Qual'è il valore medio qui? Avete idea di quanto sia? Comunque il concetto è questo Se questa è la forza Che avrà una forma più o meno strana P poi cessa di esistere Se io vi chiedo Qual'è la variazione Della quantità di moto Per tempo maggiore di T maiuscola Cioè la forza ormai è finita Cioè vi sto chiedendo Il valore della variazione Rispetto al valore iniziale Dopo che la forza è finita Allora P per tempo maggiore di Ovviamente Questo è uguale al valore iniziale Più l'area D'accordo Ma questo può essere Spensata L'area qua sotto L'area in bianco Se questo è grafico Della forza L'area in bianco Può essere Per il teorema della media Ottenuta come l'area Di un opportuno retangolo Che ha la stessa base T maiuscolo Ma di un'opportuna altezza Immaginate che sia questa Ok? Questo valore qui Si chiama il valore medio Ok? È il valore opportuno Della forza E il valore medio della forza È quel valore Che se moltiplicate Il valore medio Per la durata La forza Vi da l'area bianca Forse è eccessivo Non di fare Perchè Questo e questo Sono Quindi probabilmente Un po' più giù D'accordo? Vi devo fare in modo Che l'area sotto La furba arancione Sia uguale a quella bianca Dovete trovare L'altezza giusta In modo da bilanciare Quello che è sovrastimato E quello che è sottostimato D'accordo? Quindi Questo Si è uguale A Da T0 A T Maggiore di T Maiuscolo F di T In DT Mi sta bene Ma può anche essere scritto così Non vi pare Il valore medio Per la durata Cioè è l'area dell'integrale E' l'area del rettangolo Scusatemi Questo è l'area del rettangolo Il valore medio L'altezza del rettangolo Per la base del rettangolo D'accordo? Il valore medio Nel tempo Si intende Allora Datemi Voi che siete Io non amo molto il calcio A me il calcio solo due volte all'anno Agli europei e ai mondiali Come in Italia siete appassionati di calcio Quale può essere la massa Massa Di un pallone di calcio? Qualche etto? Facciamo 200 Tanto che cifra tonda? Perché è facile Allora la domanda è questa Immaginate che questo sia il vostro pallone Magari è un calcio di rigore Quindi il pallone Inizialmente è fermo La quantità di moto Nella direzione orizzontale È 0 Zero cosa? 0 kg Metri al secondo Ecco che sta arrivando il piede Questo è il piede Il piede comincia a toccare il pallone E poi il pallone E poi il piede Ovviamente il pallone È elastico In qualche misura L'ho anche il piede Vi accorgete che il piede È elastico E se provate a tirare un calcio La palla di Bulli Eh? E la palla di Bulli Non si deforma Il vostro piede Si Potete immaginare Che c'è un'interazione Molto complicata Col piede Che deforma la palla La palla che rincula A un certo momento Il piede si stacca Anzi è la palla Che si stacca dal piede Da quell'istante in poi Shhh Da quell'istante in poi Il piede non è più in contatto Con la palla Quindi la forza cessa La forza inizia Quando comincia il contatto La forza cessa Quando finisce il contatto E immaginate che questa sia La forza Molto complessa Perché la deformazione Sia del piede Che del pallone È assolutamente complicata Quindi potete immaginare Che istante per istante La forza sta cambiando Non è assolutamente Un grafico piatto Non c'è un unico valore Però il teorema della media Ci dice che c'è però Un valore medio Nel tempo Ok? E io voglio sapere Qual è il valore medio Di un tipico calcio di rigore Allora Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto Che la massa Dove scrivo? Quindi il pallone è fermo La quantità di moto Dopo l'urto La variazione La quantità di moto È uguale Alla forza media Per l'intervallo di tempo Oppure è uguale A questa integrale Io sto solo cercando Di dire Ok, il teorema della media Dice che c'è un valore medio Nel tempo Usiamolo questo concetto Quindi la quantità di moto Della particella Dopo l'urto È la massa Per la velocità Dopo l'urto Quindi abbiamo detto Che la massa Cosa abbiamo scelto? Facciamo 200 Duecento Due etti D'accordo? 200 grammi Quindi è 0,2 Chilogrammi La velocità Cosa potrebbe essere La velocità Di un pallone di calcio Di un tiro di rigore? Senza effetto Cioè un calcio proprio Cosa potrebbe essere? 100 all'ora Facciamo 100 all'ora La bella cifra Potrebbe essere 80 Magari chi lo tira più Tanto per fare cifre tonde Ok? È una stima questo Quindi abbiamo la velocità E 100 km all'ora Quanti metri al secondo sono? Perché noi Io voglio la forza Espresso Io voglio questo Quindi io voglio Io sto usando questa formula qua Il mio compito è questo Stimare la forza media del tempo Quindi la forza media del tempo È uguale alla quantità di moto Della particella Se volete la variazione Diviso l'intervallo di tempo Non vi pare? D'accordo? Quindi questo Lo stiamo per scrivere Questo dobbiamo dire cos'è Allora qual è la velocità? La velocità è 100 km all'ora Quanti metri al secondo sono? Cioè io voglio esprimere la forza in Newton Quanto? Il sistema internazionale Non sono km all'ora Ma sono metri al secondo Coraggio! 102 km Sono 10 alla 3 metri Quanti sono secondi all'ora? Sono 3600 Non vi pare? Possiamo fare una stima? Facciamo invece di 3600 Facciamo 4000? Tanto per avere l'ora di grandezza Non vi pare? Tanto per... Quindi facciamo finta che questo sia 4000 4000 secondi È una stima questa Quindi queste sono 10 alla 5 10 alla 5 metri Diviso 4 Per 10 alla 3 secondi Quindi ho... Facciamo... Va bene Facciamo 10 alla 2 diviso 4 Metri al secondo Giusto? Perchè 3 di questi mangeranno 3 Mi rimane 100 diviso 4 Quindi circa... Perchè circa in che senso? Perchè ho fatto questa stima qua Circa 25 metri al secondo Siccome in un'ora sono 3600 In realtà questa è una sovrastima o sottostima? D'accordo? Poi ho scelto 100 km Diciamo un valore Più o meno 20, 25 o 30 metri al secondo È una sottostima D'accordo? Allora... Quindi metto qua... 25 metri al secondo Quindi la quantità di moto dopo l'urto Se volete la variazione Perchè la palla inizialmente è ferma Cos'ho? Cos'ho? C'ho... C'ho... Sarebbe... 0,5... 5... Metri... 5... Kilogrammi... Metri... Seconde al meno 1 Siete d'accordo? Se questi fossero 2 2 per 25 fa 50 Ma è 0,2 Quindi è esposto la virgola Quindi è 5 D'accordo? Questa è la quantità di moto Adesso ditemi voi Quale potrebbe essere il tempo? Attenzione! Il tempo dell'interazione Non della ricorsa È l'intervallo di tempo in cui il piede è in contatto con la palla Qualche millisecondo? Diciamo 10 millisecondo Tanto per fare una bella cifra tonda Potrebbe essere di meno Andate voi in rete Ci sa la gente che ha fatto fotografie con cineprese molto rapide E si vede il piede che deforma e poi il piede che si stacca E uno dice ok Il fotogramma in cui si è staccato Meno è l'istante del fotogramma in cui si è messo a toccare Quella è la durata Magari 10 millisecondi è troppo Magari è troppo poco Non lo so Secondo me forse è leggermente troppo Però facciamo E sarà qualche millisecondo 10 forse sono tanti Magari sono tanti Quindi qual è la forza? Media nel tempo Quanti Newton sono? Fatelo voi Questi sono millisecondi Quindi sono 10 per 10 alla meno 3 secondi Quindi questi sono 10 alla meno 2 secondi 10.000 secondi sono 1 centesimo al secondo Quindi quanti Newton sono? Sono 500 no? Quindi ho 5 kg metri secondi alla meno 1 Diviso 10 alla meno 2 secondi E come vedete questo sono 500 kg metri secondi alla meno 2 Quindi 500 Newton Va bene? Va bene? Va bene? E' evidente che se l'intervallo fosse 1 millisecondi 1 millisecondo quanto sarebbe la forza media? 5000 Newton Vedete che la forza media è la variazione della quantità di uoto diviso il tempo Più piccolo è il tempo più grande la forza Quindi se do un colpo con magari un piede d'acciaio A una palla d'acciaio Il tempo dell'interazione sarà molto breve Se ho un piede abbastanza rigido Che entra in un pallone gommoso Pur elastico, cioè cede Poi torna alla sua forma regionale Ma cede in maniera molto più lenta Allora questo aumenta Cioè un urto, chiamiamolo così Una forza impulsiva che è molto breve O una forza impulsiva che è molto lenta Che impiega più tempo ad agire Tutte e due daranno la stessa quantità di moto La variazione di qualità di moto Cioè il grafico potrebbe essere questa Facciamo qua Dove lo posso fare? Questo disegno non hai lo posso cancellare Questa, voglio due forze impulsive Che abbiano lo stesso valore medio Quindi pensate a una cosa del genere Questa è una forza che agisce tanto Per poco tempo Questa è una forza che agisce metà Ma per il doppio del tempo Ok? Questa è F1 Questo è F2 Che è uguale a metà di F1 Ok? Dopo la forza Quindi questo è T1 T1 E questo è T2 E T2 uguale a 2T1 Dopo la forza qual è la variazione Della quantità di moto? Allora la quantità di moto Arriva o non arriva allo stesso valore finale? Siete d'accordo? Questa è la formula Guardate cosa ho fatto Il valore medio è cambiato Ma la durata pure Il valore medio nel primo caso è il doppio Del valore medio dell'altro Ma la durata del primo e metà dell'altro Siccome la variazione La quantità di moto è il prodotto Della forza media per il tempo E' evidente che questi due Raggiungeranno lo stesso valore finale Ovviamente questo voleva essere Sulla stessa scala Lo stesso valore finale Cioè il valore delta P è uguale Quello che è cambiato Quello che è cambiato Il valore finale è lo stesso Ma è cambiato L'intervallo di tempo In cui lui deve cambiare No? In fondo La forza dov'è? Queste cose non vi dovrebbero stupire La forza è in ultima analisi Delta P su T Cioè in ultima analisi La forza è la derivata di P Rispetto al tempo Quindi la stessa variazione Della quantità di moto In un intervallo di tempo diverso Quale delle due ha la forza maggiore? E' la pendenza della curva blu Questa ha una maggior pendenza di questa Se la fate in scala Se fate i disegni in scala Cosa che io ho fatto molto approssimativamente Cioè questo ha il doppio di questo Questo è il doppio di questo Il dislivello è lo stesso Ma l'intervallo di tempo Per passare questo valore a quest'altro E' il doppio di questo Quindi questo pende di più Ha una pendenza che è doppia di questa Perché? Perché questo è il doppio di quello Per ipotesi Quindi la variazione della quantità di moto E' la stessa Per effetto della forza impulsiva Ma quale ha la forza media più grande? Quella che ha la durata più piccola Sembra semplice Eppure i studenti sembrano sempre cascare dagli alberi Come fagiani e addormentati Chi legge Rodal o l'ha letto da piccolo? Lo scrittore inglese di origine norvegese Rodal Nessuno ha letto Danny? Il campione del mondo? Vabbè pazienza Meditate su questo Adesso facciamo una breve pausa